oggi andiamo ad aprire il più grande uovo di pasqua che abbiamo mai aperto ti dico che pesa un chilo e non c'è scritto davanti in grande il brand ma se leggiamo sul cornicione dovrebbe essere della valkor comunque alla sorpresa togliamo la corona dell'uovo di pasqua per poi levare velocemente lo scotch ed ecco l'uovo di pasqua in tutta la sua grandezza è pesante da tenere in mano ed è spesso per aprirlo ci vuole il coltello ecco questa è la sorpresa ma che piccola che è ma che cos'è è un cappello mi sta guardando male oh no è un push up polpo non c'entra niente con i cappelli è un polpo con due facce sorpresa e triste comunque il cioccolato al latte noi lo abbiamo trovato buono un po spesso ma buono ti aspetto nel mio prossimo video ciao